L'odevole iniziativa dei 5 Stelle di Orta di Atella, un evento per parlare delle opportunità che offre l'Europa. Da che nasce questa iniziativa? L'odevole iniziativa del Movimento 5 Stelle di Orta di Atella insieme al meet up che ci coadua. Abbiamo pensato stasera di fare questa iniziativa che è rivolta ad ogni cittadino, ad ogni professionista, ad ogni azienda che avesse bisogno di conoscere quali sono le opportunità che l'Europa in quanto organismo che eroga somme sia capace di stare a fianco della gente che ne fa richiesta. Noi vogliamo semplicemente entrare un po' nel merito delle cose da fare. Si parla spesso di Europa, di opportunità, di soldi erogati, però nessuno sa come fare per arrivare a tutto ciò. Stasera noi cercheremo con il nostro piccolo, abbiamo dei relatori, abbiamo questa associazione che è Euro Opportunity, che è un'associazione di ragazzi professionisti che si è dedicato proprio a questo. Sta cercando di far capire a chi ne facesse richiesta come fare per arrivare ad avere un finanziamento, a presentare un progetto, a risolvere una questione di carattere lavorativo.